Questa è la nostra terza tappa qui a Sorianello e sono veramente felice che il sindaco ci ha dato l'opportunità di essere qui ma specialmente la presenza di Alex Baudo questa sera impreziosisce ancora di più il concerto. Sarà una serata ricca di emozioni, di sorprese e quindi siamo carichi per poter iniziare. Devo dire che il pubblico ha risposto positivamente, io veramente Sorianello lo aspettavo ma anche domani Capistranno essendo già stato l'anno scorso so che il pubblico di Capistranno è veramente eccezionale. Quindi Capistranno ci darà una grande emozione, dopodiché quello che ho riscontrato è stata veramente la voglia di ricominciare, di ripartire e quindi c'è stato un affetto veramente caloroso da parte del pubblico e sono sicura che ci sarà anche stasera. Portami dentro di te Portami dentro di te Sono molto contento di stare qui, finalmente in Calabria, finalmente all'aperto, fresco e si canta, si balla, si beve, si ride e si gode la vita. Mi aspetto che il pubblico calabrese di queste parti apprezza molto la musica soul rock americana perché il mio genere è quello. Mi aspetto che il pubblico calabrese di queste parti apprezza molto la musica soul rock americana perché il pubblico calabrese di queste parti apprezza molto la musica soul rock americana. Ci metto un po' di italiano anche ma abbiamo qualche sorpresina anche con Letizia quindi io penso che si diverteranno e poi ho sentito tante belle cose e quindi sono già abbastanza sicuro che andrà bene. Crepi il lupo!